Come eseguire un'installazione pulita di Windows 11 su un computer HP. Se è stato acquistato un computer HP con sistema operativo FreeDOS, procedere come segue per effettuare l'upgrade a Windows 11. Nota, prima di iniziare, effettuare il backup dei dati più importanti, poiché questo processo cancella tutto dall'unità del computer. Fase 1. Verificare i requisiti di sistema. Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema per Windows 11. Tra questi vi sono una CPU a 64 bit compatibile da 1 GHz o più e con almeno due core. 4 GB o più di RAM, 64 GB o più di archiviazione di sistema. UEFI, firmware di sistema con funzionalità di avvio protetto. TPM Trusted Platform Module versione 2.0. Una scheda grafica compatibile con DirectX 12 o versioni successive. Con un driver VDDM 2.0. Un display con almeno una risoluzione di 720p e una diagonale maggiore di 9 pollici. E una connessione Internet per eseguire gli aggiornamenti, oltre che per scaricare e sfruttare al meglio alcune funzioni. Nota, questi sono i requisiti minimi. Alcune opzioni o funzioni potrebbero richiedere altre specifiche. Prima di eseguire l'installazione, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti dei requisiti sul sito web ufficiale di Microsoft. Fase 2. Creare un'unità USB di avvio. Assicurarsi di disporre di un'unità USB vuota di almeno 8 GB. Si consiglia di utilizzare un'unità USB vuota, poiché qualsiasi contenuto verrà cancellato durante l'installazione. Su un altro computer, scaricare lo strumento di creazione di supporti per l'installazione di Windows 11 direttamente dal sito di Microsoft. All'indirizzo www.microsoft.com.software-download-windows11. Scorrere fino alla sezione Creazione di supporti di installazione di Windows 11 e fare clic su Scarica ora. Nota, aprire il menu a tendina per visualizzare ulteriori dettagli da Microsoft sui requisiti più recenti e sull'utilizzo dello strumento. Aprire lo strumento di creazione dei supporti e seguire le istruzioni per rendere l'unità USB un'unità di avvio. Nota, qualsiasi contenuto presente sull'unità USB verrà eliminato. Assicurarsi di effettuare un backup di tutti i dati presenti sull'unità. Fase 3. Modificare l'ordine di avvio BIOS barra UEFI. Inserire l'unità USB di avvio nel computer. Riavviare il computer e accedere alle impostazioni BIOS barra UEFI. Generalmente, è possibile eseguire questa operazione premendo ripetutamente un tasto F2, F10 o CANC durante l'avvio. Controllare il manuale del computer per capire quale tasto premere. Nelle impostazioni BIOS barra UEFI, andare al menu di avvio. Modificare l'ordine di avvio per assegnare la priorità all'unità USB. Salvare le modifiche e uscire. Fase 4. Installare Windows 11. Il computer dovrebbe avviarsi tramite l'unità USB. Seguire le istruzioni sullo schermo per cominciare l'installazione di Windows 11. Quando richiesto, scegliere l'installazione personalizzata per eseguire un'installazione pulita. Selezionare l'unità in cui si desidera installare Windows 11. Nota, l'unità selezionata verrà formattata. Prima di proseguire, effettuare il backup di tutti i dati presenti su questa unità. Fare clic su Avanti. Si avvierà il processo di installazione. Il computer si riavvia diverse volte. Fase 5. Completare l'installazione. Al termine dell'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo per impostare area geografica, lingua, layout di tastiera e altre preferenze. Una volta conclusa l'installazione di Windows 11, verificare la presenza di aggiornamenti e installare eventuali driver necessari per l'hardware in uso. Sul canale YouTube di HP Support sono disponibili altri video utili. Sul canale YouTube di HP Support sono stati per impostare. Grazie a tutti.